Si è chiusa la 29esima edizione del Salone del Libro. Sono stati circa 2000 gli spettatori che hanno assistito ai numerosi eventi organizzati dal Consiglio regionale in Arena Piemonte, Sala Argento e Sala Arancio. Qualche migliaia di visitatori ha fatto tappa allo stand istituzionale per chiedere informazioni sulle numerose attività dell'ente e le iniziative culturali e per consultare le pubblicazioni in distribuzione. Chi non è riuscito a partecipare a qualche incontro organizzato dal Consiglio regionale può consultare la pagina dello speciale dove troverà i comunicati di ogni appuntamento, le gallerie fotografiche e alcuni brevi filmati.